salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui per non per una recensione ma per esprimere la mia gioia la mia reazione al teaser trailer del nuovo film Ghostbuster 4 Minaccia Glaciale non vedevo l'ora che arrivasse perché sono molto curiosa il precedente film Afterlife mi ha emozionato mi ha commosso nel finale chi l'ha visto sa cosa voglio dire e quindi aspettavo con ansia questo 4 perché si parlava già di qualcosa di ghiaccio qualcosa su un'era glaciale e quindi ero molto curiosa di vedere questo trailer dopo aver visto il trailer mi sono venuti già i brividi addosso quando ho incominciato man mano a vederlo e poi vedere la parte della macchina della Ecto 1 vabbè iniziamo subito a parlare del trailer come avete visto vediamo all'inizio le spiagge del New Jersey che stiamo in estate quindi fa molto caldo tante persone sulla spiaggia tanti ragazzi che si divertono al parco divertimenti sapete quei piccoli parchi che la maggior parte è in America vicino alle spiagge e tutti si divertono fa caldo sta in acqua tipo un po come film quelli estivi o degli squali sembra tipo un po così e all'improvviso si vede che succede qualcosa incomincia a succedere tipo io all'inizio quando ho visto l'acqua che sembrava che si stesse alzando ho detto oddio tipo un uragano non lo so o un vortice o qualcosa tipo non ricordo il film Independence Day una cosa del genere quando poi si alza l'acqua arriva alla fine scusate se è sbagliato mi potete dire qual è il film ho delle scene un po così nella memoria quindi non ricordo bene come si chiama il film questo qua e dicevo e all'improvviso vediamo queste schegge di ghiaccio che escono dalla spiaggia ho detto oddio qualcuno sicuramente non si sa se si infilzerà con queste schegge non lo possiamo ancora sapere ma non penso che ci sarà proprio sangue in questo film quindi non credo almeno e quindi vediamo che la gente scappa a paura e all'improvviso vediamo appunto la bellissima New York che mi ha fatto ritornare indietro nel tempo con i primi due film e vediamo gli attori originali e qui mi sono venuta i brividi addosso mi sono emozionata tantissimo ho detto sì cavolo che bello finalmente a me non li possiamo vedere anche se un pochettino mi sono attristata perché il mio personaggio preferito Igon non c'è più avrei preferito vederlo io sinceramente aspettavo questi film molti ma molti anni fa non per i ragazzini diciamo per i ragazzi che sono nel film loro sono bravissimi e quindi mi sono piaciuti anche ma avrei preferito anni fa sinceramente questi film con Icon perché avrei voluto ecco tutto il caso completo degli originali ritornare con una minaccia nuova eccetera allora dicevamo vediamo il caso originale insieme ai ragazzi che cercano di combattere questa minaccia scoprire questa minaccia di che si tratta di questa minaccia glaciale tipo una seconda era glaciale perché c'è stata la prima era glaciale tanto tanto tempo fa quindi penseranno penso una cosa del genere e quindi cercheranno di combattere e vediamo anche una specie di mostro che si infila qualcosa nella testa tipo come se si caricasse ecco vediamo una cosa del genere in certi film ho visto una cosa del genere tipo che si carica tipo di energia però qua vedo una cosa più glaciale quindi non si capisce all'inizio bene di che cosa si tratta c'è cosa carica lui nella sua testa poi vediamo comunque rivedere sia New York sia la caserma dei pompieri che la location per eccellenza dei Ghostbusters mi ha fatto tanto emozionare rivedere la Hector che scorazza per le strade di New York è stata una cosa fantastica bellissima e quindi vedendo questo trailer ci fa ancora di più incuriosire per vedere di che cosa si tratta perché non specifica proprio esattamente di che si tratta cos'è questa minaccia però notiamo che i Ghostbusters originali sono ancora lì dentro sono forse stanno studiando forse qualcosa di più per combattere ancora più fantasmi più potenti più difficili da eliminare quindi stanno facendo delle ricerche quindi la base no la base dei Ghostbusters quindi è stata adibita tipo come top secret perché ovviamente non lavorano più no come prima e vediamo appunto tutte queste tutte queste tutte queste particolarità e niente che altro dirvi che non vedo l'ora che esce al cinema il film uscirà l'anno prossimo il 29 marzo io speravo tipo quest'anno alla fine dell'anno almeno speravo di vederlo ma purtroppo dobbiamo aspettare l'anno prossimo e che altro dire fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate anche voi del quarto capitolo di Ghostbusters non lo so potremmo fare alcune congetture sotto nei commenti fatemi sapere la vostra mi raccomando io non vedo l'ora che esca il film sono troppo emozionata voglio riemozionarmi di nuovo con gli originali con New York con la nostra base la nostra Hector e anche con i nuovi ragazzi che sono bravissimi e niente fatemi sapere la vostra mi raccomando non dimenticate di iscrivervi di iscrivervi al canale di commentare e di condividere il video ciao a tutti e alla prossima ciao 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 ciao